Domenica ci terranno cinque importanti referendum che riguardano una questione fondamentale per tutti noi, quella della giustizia. Avere una giustizia davvero giusta, efficiente, anche rapida, severa con chi ha commesso dei reati, ma attenta a non incolpare chi non ne ha commessi, è una condizione essenziale per vivere in un Paese davvero civile e democratico. La giustizia ci riguarda tutti. Chi ha la sventura di dover subire un processo, entra nel processo non da solo, ma con i propri genitori, i propri figli, i propri collaboratori. Gli si rovinano i rapporti sociali, gli si rovinano i rapporti economici, gli si rovina la vita. Ma anche chi non è stato toccato da una vicenda processuale deve sapere che negli ultimi trent'anni gli innocenti che sono finiti in carcere per errore sono stati ben trentamila. Mille ogni anno, mille cittadini che da questo hanno avuto la vita distrutta. Io dico che solo uno Stato che tutela gli innocenti e persegue esclusivamente i veri colpevoli è uno Stato giusto e democratico. Per questo vi chiedo di andare a votare per questi referendum. Io voterò 5 sì e vi invito a fare la stessa cosa. Non è un voto contro la magistratura. So bene che buona parte dei magistrati sono persone corrette che meritano riconoscenza per quello che fanno. Ma occorre davvero una riforma per poter finalmente contare su una giustizia giusta, imparziale, che garantisca i diritti e la libertà di tutti noi. Senza questo non saremo mai una vera democrazia. Non saremo mai un Paese veramente giusto, veramente libero. E allora per un grande futuro di libertà vi chiedo di votare 5 sì al referendum della giustizia.